L'ombra della deflazione, diventata in quest'ultimo anno lo spauracchio della zona euro, si allontana. A ridimensionare i timori di un calo dei prezzi al consumo ci hanno pensato i dati Eurostat. A ottobre l'inflazione è risalita allo 0,4%, un'accelerazione rispetto al record minimo dello 0,3% del mese precedente. Soddisfatti gli analisti, che temevano una figura invariata a fronte del calo registrato dai indicatori tedeschi, a trainare il dato del blocco dei paesi della moneta unica, in particolare i servizi, insieme ad alimentari, alcolici e tabacchi, a zavorrarlo, come nei mesi precedenti, il deciso calo del costo dell'energia. Le cifre fanno il paio con quelle del mercato del lavoro a settembre, il tasso di disoccupazione di Eurolandia è rimasto stabile all'11,5%, una media che ricomprende realtà virtuose come Germania e Austria, intorno al 5%, e ultimi della classe come Spagna e Grecia, oltre il 24%. In Italia il tasso di senza lavoro è risalito a livello record del 12,6%, ma ci sono anche buone notizie. Gli occupati erano 82.000 in più rispetto al mese precedente.